È una sperimentazione che nasce tre anni fa dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Ferrara e a breve potrebbe dimostrarsi come un nuovo modo di fare prevenzione per il tumore al colon retto. Una sperimentazione avviata dal professore associato del Dipartimento di Fisica dell'Università di Ferrara Cesare Malagù che poi ha coinvolto i colleghi della Chirurgia 1, il direttore, il professore Pier Giorgio Cavallesco e il professore Gabriele Anania per sperimentare un dispositivo che in pratica è in grado di individuare i marcatori tumorali senza essere invasivo come la colonoscopia. Questo dispositivo è un array di sensori, cioè sono cinque sensori realizzati con delle micropalline, veramente nanopalline, di dimensioni quindi di pochi nanometri, miliardesimi di metro, che sono in grado di sentire anche parti per miliardo di gas e di composti organici volatili che possono essere indicatori tumorali. Oggi infatti lo screening al colon passa prima per le analisi del sangue occulto nelle feci e se questo risulta positivo il paziente viene poi sottoposto a un ulteriore accertamento non sempre piacevole che è la colonoscopia. Questa sperimentazione, una volta affinata, permetterà invece di portare alla colonoscopia soltanto chi ha veramente il tumore. Per questo il progetto è stato abbracciato anche dall'azienda USL che ha messo a disposizione una dottoranda dai gastroenterologi e dalla Lilt che di fatto, mettendo a disposizione dei fondi, permetterà alla sperimentazione di andare avanti. Il progetto è stato realizzato anche con il lavoro di alcuni medici di base. Quello che stiamo facendo è praticamente cercare degli indicatori tumorali diversi dall'emoglobina. Naturalmente adesso con lo screening del sangue occulto si sta cercando sangue. Noi cerchiamo invece composti organici volatili attraverso i sensori che sviluppiamo con il nostro dispositivo. Quindi il risultato principale sarebbe quello di ridurre al massimo gli esiti dei falsi positivi, cioè riuscire a dire ok è venuto positivo il test all'emoglobina, se è anche positivo agli indicatori tumorali, allora è necessario fare la colonoscopia. Altrimenti si potrebbe ridurre il numero delle colonoscopie se viene negativo il nostro test e magari posticiparle. Questo potrebbe invogliare la popolazione ad aderire maggiormente alla campagna di screening, perché si sa che la colonoscopia è abbastanza invasiva e spaventa, mentre il nostro test è fatto in vitro esattamente come il test del sangue occulto nelle fecce.